Una delibera datata 8 luglio 2014 del nuovo governatore d'Abruzzo D'Alfonso blocca il piano antiallagamenti per il comune di Pescara. 2 milioni di euro destinati al dissesto idrogeologico che solo lo scorso dicembre ha messo letteralmente in ginocchio Pescara. Forza Italia indice una conferenza stampa per parlare di quello che ha apostrofato il primo regalo di D'Alfonso ai pescaresi. È veramente incredibile che il primo atto della giunta D'Alfonso riguardante la città di Pescara sia stato un atto per togliere soldi finalizzati al completamento del cosiddetto piano antiallegamenti opera assolutamente strategica per tutta la città in particolare per Pescara-Portonova. Allora la nostra conferenza stampa è una conferenza stampa di denuncia di quanto è accaduto. Se un errore si rimedi, se non è un errore si cambi completamente strategia Pescara ha bisogno di quei soldi che la giunta Chiodi aveva assegnato e che la giunta D'Alfonso ha inopportunamente tolto. Una preoccupazione fondata sull'impellenza di lavori rimandati tante e tantissime volte davvero indispensabili a una città che vive una vera e propria paralisi del traffico dopo ogni pioggia neanche troppo abbondante. A questa preoccupazione si aggiunge anche quella di vedere sfumate altre opere destinate alla provincia. Opere finanziate proprio grazie a quei fondi richiesti e ottenuti sulla carta dall'ex governatore Chiodi. Vediamo un attimino adesso quale sarà la risposta del Presidente della Regione. Noi riteniamo che l'opera debba essere finanziata. Il cantiere è in corso, peraltro. Corre il rischio di bloccarsi e di bloccarsi definitivamente. Insomma, mi sembra che D'Alfonso e il PD si stiano assumendo una grande responsabilità dopo aver già prodotto un danno il Partito Democratico nella gestione dell'ACA che aveva azzerato anche lì i fondi. Quindi c'è un ritornello da parte del PD. Ogni volta che si tratta di finanziare un'opera importante per Pescara c'è un ripensamento. E da questo punto di vista noi faremo tutte le battaglie necessarie perché Pescara torni ad avere quei finanziamenti e possa vedere completata quell'opera che risolverebbe definitivamente i problemi degli allagamenti a Pescara-Porta Nuova.